Un vero e proprio negozio, chiuso la domenica e nei festivi, è aperto dalle 12 alle 19.30, dove si stampavano e distribuivano banconote e documenti contraffatti. Scoperto dai carabinieri a Napoli, in un basso del vasto, il quartier generale di una banda di falsari con a capo una donna. I militari hanno eseguito 24 misure cautelari, gli indagati, 9 in carcere, 10 ai domiciliari e 5 destinatari del divieto di dimora devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla vendita e la messa in circolazione di banconote e in euro contraffatte. Intercettazioni, osservazioni, ma anche pedinamenti hanno consentito ai militari in poco più di un anno di disarticolare la strutturata organizzazione che acquistava e vendeva valuta anche all'estero. Sequestrato il negozio e localizzati anche due depositi, dove erano nascosti in dei sacchi grandi quantitativi di denaro contraffatto e una vera e propria scuderia di motoveicoli, venivano utilizzati dai sodali per effettuare i prelievi di banconote ordinati dagli acquirenti. Sigilli a circa 500.000 euro. Tra gli arrestati in flagranza di reato anche due cittadini francesi beccati con 16.000 euro falsi.